La missione Apollo 11 sarebbe rimasta una delle più grandi conquiste dell'umanità. Alcuni spettatori lo ricordano come il viaggio di successo che ha portato un uomo sulla Luna. L'Apollo 11 ha visto Neil Armstrong e Buzz Aldrin diventare coraggiosi pionieri che hanno inciso il loro nome nella storia essendo i primi a camminare sulla superficie lunare. Tuttavia, c'era un altro astronauta in quella missione, la cui fama non è paragonabile ai primi due citati. Questo astronauta ha risposto al nome di Michael Collins e rimane ancora relativamente sconosciuto a causa del ruolo che ha svolto nella missione. Michael Collins ha condiviso segreti inquietanti che gli astronauti hanno scoperto durante il loro viaggio verso la Luna. Cosa avrebbero potuto trovare sulla Luna di così inquietante? L'espressione iconica di Neil Armstrong quando muoveva i suoi primi passi sulla Luna era «un piccolo passo per l'uomo, un balzo da gigante per l'umanità». Buzz Aldrin lo seguì mentre esploravano il terreno lunare, mentre Michael Collins rimase nella navicella in orbita attorno alla Luna. Nel corso della storia, la Luna è stata una meraviglia naturale studiata dai nostri antenati con risorse limitate. Scoprirono la sua influenza sulle maree e sulla creazione dei calendari, e la associarono a miti e leggende. Le prime missioni sulla Luna furono effettuate da sonde e orbiter senza equipaggio, fornendo preziose informazioni sulle sue condizioni e sulla sua geologia. Questi risultati hanno alimentato il desiderio di inviare esseri umani sulla Luna, soprattutto durante la Guerra Fredda, quando la corsa allo spazio tra Stati Uniti e URSS divenne motivo di orgoglio e dimostrazione di superiorità tecnologica. La missione Apollo degli Stati Uniti nel 1969 aveva l'obiettivo di far atterrare un uomo, sulla Luna e riportarlo indietro sano e salvo. Il programma Apollo ha attraversato una serie di fasi di sviluppo e test, culminate nella storica missione Apollo 11. Il 20 luglio 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin scesero sulla Luna mentre Michael Collins rimase nella navicella. Armstrong fece i primi passi sulla Luna, seguito da Aldrin, e fecero esperimenti scientifici prima di tornare alla nave principale. Il 24 luglio, i tre astronauti sono atterrati nel Pacifico, completando la missione e ricevendo il plauso di aver realizzato il sogno dell'umanità e spianato la strada alla futura esplorazione dello spazio. Michael Collins ha avuto un'illustre carriera come pilota collaudatore astronauta. Nato in Italia e cresciuto in una famiglia di militari, ha sviluppato la sua passione per l'aviazione e l'astronomia a Washington. Dopo essersi diplomato a West Point, si unì all'Air Force, partecipando a missioni durante la guerra di Corea. Successivamente, è entrato a far parte della NASA e ha seguito l'addestramento per i programmi Gemini e Apollo. Compì il suo primo volo spaziale sulla missione Gemini 10 e successivamente fu assegnato alla storica missione Apollo 11, dove fece parte dell'equipaggio che sbarcò per la prima volta sulla Luna. Il suo contributo ha rappresentato un risultato monumentale nella sua illustre carriera e vita professionale. Michael Collins ha svolto un ruolo cruciale come pilota del modulo di comando nella missione Apollo 11, nonostante fosse distaccato dalla superficie lunare. Il loro compito era guidare e mantenere il modulo di comando Columbia mentre Armstrong e Aldrin esploravano la Luna. Questo ruolo comportava la garanzia di un corretto sgancio del modulo lunare e l'esecuzione di manovre critiche di Rendevus e Atracco con precisione. Collins aveva un ampio elenco di responsabilità, sistemi di monitoraggio e mantenimento di una comunicazione costante con il controllo della missione. Senza il loro lavoro, la missione non avrebbe avuto lo stesso successo, piche eventuali errori di Rendevus e Atracco avrebbero potuto mettere in pericolo non solo l'intera missione, ma anche la sicurezza dei loro compagni astronauti. Il ruolo di Michael Collins nella missione Apollo 11 è andato oltre i semplici compiti meccanici. Come pilota del modulo di comando, si è assicurato che fosse in perfette condizioni, piche era l'unico modo per tornare sulla Terra. Inoltre, ha svolto un ruolo cruciale come principale fonte di comunicazione tra l'equipaggio e il controllo della missione, trasmettendo preziose osservazioni e fotografie della Luna in tempo reale. Pur non avendo l'opportunità di esplorare la superficie lunare, Collins ha svolto le sue responsabilità con freddezza e compostezza, comprendendo l'importanza del suo ruolo di intermediario e dimostrando una dedizione incrollabile. Michael Collins è stato determinante per il successo della missione Apollo 11. Ha svolto un ruolo cruciale nella manovra di iniezione transterrestre, essenziale per il ritorno sulla Terra dall'orbita lunare. Pur separato fisicamente dai suoi compagni sulla Luna, Collins mantenne la navicella in orbita lunare per 21 ore, vivendo momenti di profonda solitudine. Nonostante fosse in secondo piano, la sua dedizione e le sue capacità tecniche si sono rivelate fondamentali per il compimento della missione. Collins incarna lo spirito collaborativo e collettivo della spedizione, e la sua introspezione durante il suo tempo solitario sulla nave ha sicuramente lasciato una profonda impressione su di lui. Collins è diventato l'essere umano più solo della storia, dall'altra parte della Luna, senza alcun collegamento con nessuno a causa dell'assenza di segnale radio su quel lato. Sorprendentemente. Tuttavia, Collins descrive la sua esperienza come serenità solitaria piuttosto che desolazione. Non è stato in grado di comunicare con i suoi compagni o con il controllo della missione sulla Terra durante ogni orbita a causa dell'assenza di trasmissioni radio. Nonostante non abbia mai messo piede sul lato opposto della Luna, è diventato la prima persona a vederla completamente in solitudine. Durante la missione Apollo 8, l'equipaggio ha orbitato attorno alla Luna senza lasciare la navicella e ha sperimentato insieme il silenzio radio. Collins, d'altra parte, ha potuto ricevere comunicazioni solo quando ha raggiunto il lato vicino della Luna, rivolto verso la Terra. Il lato nascosto della Luna è silenzioso sia in termini di radio che di interferenze, il che lo rende un luogo ideale per la radioastronomia. I segnali deboli provenienti dal Sole e da altre fonti possono essere rilevati senza interferenze da parte delle attività umane. Al contrario, il lato vicino della Luna subisce interferenze radio dalla Terra, il che renderebbe difficile ottenere letture accurate per altri segnali. Il lato nascosto della Luna è privo di una sostanziale ionosfera, il che lo rende un sito caratterizzato da silenzio radio e assoluta calma che ha catturato l'interesse degli astronomi. Nel 2019, la Cina è stata la prima a far atterrare un rover sul lato più lontano della Luna nell'ambito della missione Chang'e 4. Il rover ha effettuato osservazioni astronomiche a bassa frequenza utilizzando una piccola antenna dispiegata nel cratere Von Karman, situato al bacino del polo Sud Aitken. Inoltre, il rover ha comunicato con la Terra tramite un satellite ripetitore posizionato nel punto di Lagrange L2, dove le forze gravitazionali si bilanciano. Il lato nascosto della Luna è misterioso e offre opportunità uniche di esplorazione, anche se con problemi di comunicazione. Collins è stato il primo a sperimentare l'intensa solitudine lì, ma ha trovato serenità e una nuova prospettiva mentre fluttuava nello spazio, osservando la Terra da lontano. Ha saputo apprezzare la bellezza del nostro pianeta e riflettere sulla sua posizione nel vasto universo. Nonostante la solitudine, si tenne occupato e si concentrò sul successo della missione Apollo 11, preparandosi all'attracco con i suoi compagni di equipaggio. Collins si è goduto i momenti tranquilli nello spazio e ha trovato pace e appagamento nella solitudine. Mentre orbitava attorno alla Luna, ebbe il privilegio di assistere al lato nascosto della Luna in tutto il suo splendore, un paesaggio aspro e pieno di crateri che rimase nascosto dalla Terra. Mentre orbitava attorno alla Luna, Collins ha visto la Terra come una piccola e fragile sfera blu nella vastità dello spazio, uno spettacolo impressionante che ha lasciato una profonda impressione su di lui. Questa prospettiva, nota come effetto quadro generale, ha cambiato la loro visione del nostro pianeta e del suo posto nell'universo. Si sentiva connesso a tutta la vita sulla Terra e sviluppò un forte senso di responsabilità ambientale. Dopo la missione Apollo 11, è diventato un appassionato sostenitore della conservazione della Terra, esortando a proteggerla e a prendere decisioni che preservino il suo equilibrio naturale. Desideravo che i leader politici vedessero il nostro mondo dalla loro prospettiva per proteggerlo piuttosto che danneggiarlo. La solitudine nello spazio ha portato Collins ad affrontare domande esistenziali e ha cambiato le sue convinzioni. Ha riflettuto sul significato dell'universo e sul suo ruolo in esso, che ha rafforzato la sua prospettiva spirituale e la sua fede in un cosmo ordinato. Collins considerava un onore essere l'uomo più solo, e durante quel periodo ha trovato la bellezza nello spazio e ha riflettuto su domande fondamentali sulla vita e su come proteggere al meglio il nostro mondo.